Ma dove siete finiti i rocchettari? Ma dove siete finiti i rocchettari? Tutti coi capelli adesso tagliati corti, con le giacche, la cravatta. Un giorno uno mi disse, la cravatta è il passaporto degli stronzi. Non è proprio vero, perché tanta gente rassume se sei in cravatta, io lo capisco. Mi sembra un cappio al collo a volte, per me lo è sempre stato. Mi piace più mettere la cravatta addosso ad una donna e stringergli un po' il collo, così, magari, per creare, per farla diventare una specie d'uomo, no? Dato che ormai i figli dei rampolli sono diventati drogati. Gli attori, idole delle mamme, delle figliole, con facce pulite, con tanti soldi, della borghesia alta, con studi a Boston, sono diventati drogati. E allora i drogati eravamo solo noi rocchettari, solo noi rocchettari eravamo stillati da questa etichetta di droga? Aveva ragione Eric Clapton, quando andò in America, tanti anni fa, e disse Ho visto più droga tra gli uomini d'affari americani, uomini d'affari importanti, che nel mondo del rock.